Benvenuti dal vostro Anaro Sensei Sempre più spesso, sia voi che amici, conoscenti, eccetera mi chiedete, ma Anaro questo sito è sicuro? Posso fare degli acquisti? Posso mettere dentro credenziali di accesso, password, eccetera? Oppure è pericoloso perché mi truffano? Beh, questo è un discorso molto particolare, molto delicato e soprattutto è impossibile da dare la certezza matematica più perfetta però ci avviciniamo tantissimo con poche regole e soprattutto con l'aiuto di qualche strumentino individuare quello che può essere un sito truffaldino perciò se siete spaventati o avete qualche dubbio anche solo a titolo informativo perché non si sa mai, magari oggi i siti che utilizzate sono sempre i soliti e li conoscete però magari tra un mese, due mesi, sei mesi, un anno o quando volete vi può capitare un sito nuovo anche perché ne escono veramente una tonnellata ogni giorno e quindi stare dietro a tutti quanti è quasi impossibile ecco che interviene questo tutorial per prevenire, per aiutare la perdita di dati e di qualsiasi altro tipo di soldi magari carte di credito e via dicendo se questo video vi interessa iscrivetevi al canale buttate un like, un bel pollice in su perché tanto per voi è gratis e lo dico sempre e invece a me serve per farmi capire se sto andando verso la strada giusta e basta ci rivediamo subito dopo la sigla ribentornati dal vostro Naro Sensei allora, oggi super mega video secondo me questa è una cosa che tutti e sozzolineo tutti dovrebbero conoscere infatti partiamo dal presupposto di utilizzare un browser serio la prima regola in assoluto è utilizzare un browser decente, aggiornato che abbia una certa credibilità quindi non andate a scaricare pink o pallino software perché rischiate di perdere informazioni già di base tra i principali più conosciuti e più famosi abbiamo sicuramente Chrome, Firefox, Opera, Brave, Vivaldi e soprattutto Tor se volete il massimo della sicurezza ma quella è un'altra storia non mi metto neanche a parlare di Tor perché è un mondo a parte la cosa veramente importante è che ultimamente da un po' di tempo tutti quanti i browser principali hanno l'opzione dell'utilizzo di connessioni sicure in automatico basta andare su impostazioni andare su avanzate riservatezza e sicurezza o sicurezza eccetera dipende anche dal browser poi selezioniamo di nuovo sicurezza e infine controllare che ci sia la spunta attivata su utilizza sempre connessioni sicure cosa significa? allora le connessioni sicure sono le connessioni HTTPS rispetto alle vecchie connessioni HTTP la S sta per praticamente una connessione con certificato SSL ovvero una connessione criptata perciò sicura significa che tutte le informazioni passano da diciamo cliente da utente che vuole andare a vedere il sito al sito in maniera criptata e nessuno può sapere di chi sono queste informazioni ok? mentre nella vecchia tipologia di 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 connessione HTTP appunto erano tutte quante in chiaro è da un bel po' di tempo che tutti i siti stanno cercando o almeno dovrebbero cercare di finire in HTTPS per controllare questo fino a poco tempo fa esisteva esiste anche ora però è stato appunto resa obsoleta da questa funzione ok? l'estensione HTTPS Everywhere era una delle più consigliate ho fatto vari video a riguardo insomma ve le andate a vedere se volete anche se adesso non serve più e appunto cerca di forzare l'utilizzo di connessioni sicure se un sito non è sicuro viene fatto un avviso è possibile addirittura bloccare di base anche tutti quanti i siti in modo che sia impossibile andare su siti non sicuri detto questo ora appunto che nei browser c'è questa funzione basta andare in alto a sinistra sul lucchetto per scoprire se la connessione è sicura in questo caso ad esempio YouTube la connessione è sicura mi basta cliccare ancora per ottenere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno e anche sapere che il certificato è valido perché ha un certificato SSL tante volte però vogliamo magari vederlo noi con i nostri occhi e per i più attenti non so se vi siete resi conto in alto ormai non viene più fuori la scritta HTTPS barra barra due punti eccetera eccetera perché viene fuori la scritta base diciamo senza tutti quanti i vari collegamenti antecedenti ci basterà eventualmente premere sopra alla barra fare tasto destro copia eliminare se facciamo tasto destro incolla oppure ctrl c ctrl v insomma noteremo subito che in realtà abbiamo copiato l'indirizzo completo ovvero https due punti slash slash e come potete appunto vedere la S è presente questa è una delle principali regole assolutamente da avere su un sito sicuro successivamente è possibile attraverso alcuni piccoli accorgimenti notare anche se realmente ci sono altri fattori perché potrebbe anche essere connessioni sicura ma sfruttare altri escamotage come pop up particolari come del malware in genere ok da là un altro modo assolutamente utile potrebbe essere installare delle estensioni come adguard in questo caso sto bloccando 42 43 stanno andando su proprio sia pubblicità 44 sia tentativi di sfruttare la mia i miei dati ok di adguard neanche visto a parlare perché anche di questo ho fatto un sacco di video quindi ve li dovete andare a vedere per avere un quadro completo tantissimi altri programmi o estensioni del genere vanno proprio a bloccare sul nascere questo genere di connessioni non protette poi un'altra cosa da controllare è vedere se il sito è scritto bene può capitare che magari qualche sito lo cliccate anche per sbaglio e ci sia scritto non so paypal ma invece di esserci scritto paypal la l era figurata da un 1 magari in grande e quindi sembra che ci sia scritto paypal in realtà è paypal 1 esempio oppure invece di andare su amazon può essere anason con la n questi sono stupidaggini di esempi per farvi capire di controllare se siete nel dubbio che l'indirizzo reale sia corretto perché tanti giocano proprio su questo fattore ovvero non ci fate caso magari mettete una lettera diversa una lettera sbagliata e tac avete un sito magari identico graficamente ma che poi si rivela essere truffaldino altro campanello d'allarme potrebbe essere anche l'ortografia mi è capitato in qualche sito di trovare apparentemente un sito famoso scritto però malissimo con errori ortografici pesanti perché è stato copiato e ritradotto magari con google translate ok e perciò le frasi non avevano senso compiuto proprio al top e si è rivelato un sito fake quindi un sito finto nel quale la gente poteva andare a fare acquisti ma non ricevere niente perché appunto serviva solo come esca per far spendere soldi e mangiare insomma denaro a persone che magari non si sono accorte di questi piccoli errori ortografici se la grafica è fatta male se non è messa a fuoco bene se è spostata insomma se il sito è palesemente fatto in velocità o non bene attenzione su quelle orecchie perché può essere tranquillamente un sito copia e incolla uno dei metodi principali che consiglio in assoluto per verificare se qualcosa è storta o dritta potrebbe essere l'utilizzo di Trustpilot un sito molto figo ok nel quale potete veramente sbizzarrirvi perché ci sono tutte le recensioni di tutti quanti gli utilizzatori appunto di questi siti va veramente da banche gioielleria abbigliamenti tutto quindi andate via pacifici un classico delle domande che mi è stato fatto è stato ma Case Fun che tu promuovi fai pubblicità in cui è possibile comprare licenze di Office di Windows e di tantissima altra roba è sicuro? beh scopriamola assieme Case Fun basta scrivere Case Fun è Case Fun è Case Fun punto com voilà ok eccolo qui lo selezioniamo e andiamo su cerca qui c'è scritto che su 422 recensioni il 95% è eccezionale è chiaro che ci sarà sempre per tutto quello che magari è stato trattato male o magari gli è finita l'email sullo spam e pensa che non gli abbiano mandato la licenza ma se su 422 persone che hanno votato il 95% ha detto top come potete vedere questo è un sito affidabile ok poi non penso che le recensioni siano state tutte quante farlocate fake finte insomma se la recensione è una ce ne sono 5 o 10 su quelle orecchie anche lì se ce ne sono tante c'è qualche centinaio insomma viva dio non possiamo proprio dire che sono finte perciò secondo Trustpilot casefun.com appunto è assolutamente sicuro ok valutato eccezionale altro sito che può aiutarvi mi faccio anche copia e incolla così non serve che sto là a scrivere potrebbe essere un sito proprio proposto da google stesso ci fidiamo di google fino a un certo punto comunque questo è il sito ve lo metto in descrizione basta fare casefun.com invia e lui verifica se ci sono contenuti sicuri e non sicuri anche in questo caso secondo google non sono stati trovati contenuti non sicuri ok anche qua insomma una bella prova di sicurezza altro sito molto utile questo è una bomba nucleare si chiama voice ve lo metto sempre sotto in descrizione andiamo a piazzare il nostro sito e andiamo su cerca questo ha una marcia assolutamente in più rispetto agli altri perché rispetto a controllare magari se ci sono pop up o qualsiasi altra cosa loro di voice vanno a verificare anche chi sono i proprietari se la licenza del sito è corretta insomma vanno a verificare tutto questa volta è stato passato ok come potete vedere abbiamo l'ombrellina verde e perciò case fan è sicuro abbiamo il nome del dominio abbiamo indirizzi ip abbiamo date di creazione abbiamo tutto quindi tutta la lista di quello che è possibile ottenere insomma abbiamo una descrizione molto approfondita amministratori numeri di telefono mail paesi di origine dove ci sono le sedi una sbordellata di roba da vedere forse è il più completo in assoluto dei siti per fare proprio la verifica se il sito è sicuro o meno da tenere assolutamente a memoria oppure ogni volta vi potete buttare sul mio video e fare tasto destro apricone sul link che c'è sotto in descrizione ultimo ma non ultimo perché ce ne sono veramente tanti ma non mi piacciono più di tanto scusate il gioco di parole ionos ionos controlla anche lui il sito web si va su verifica ed ecco qua che è partito allora il sito è ottimizzato per la rete risultato globale con gratulazioni il sito web è stato valutato positivamente dalla nostra analisi presenza online 89% visibilità 96% sicurezza 100% velocità 57% se alla fine se compro una licenza non mi interessa che sia velocità della luce non ho un ping per giocare quindi va benissimo l'importante è che sicurezza sia al 100% e qua c'è tutta una serie di informazioni abbiamo anche eventuali domini disponibili se vogliamo creare un nostro sito simile infatti questo è un modo molto utile se volete creare il vostro sito per avere anche un confronto visibilità miglioramento consigliato viene visualizzato in modo vabbè non mi interessa 5 criteri ottimali eccetera eccetera insomma avete tutto quanto sotto occhio velocità appunto miglioramento necessario la faranno in base ai soldi delle licenze faranno degli upgrade nei loro server ma per ora a me non interessa direi è un sito assolutamente funzionale e sicuro ok quindi come avete visto è un sito di cui vi potete fidare piccola parentesi se vi capita di vedere che IONOS non si carica o resta bloccato disattivate il vostro adblocker che sia quello di base o che sia uno messo in estensione anche adguard ogni tanto in base ai filtri potrebbe creare il problema proprio perché va a bloccare l'analisi del sito perciò se vedete che resta bloccato per un po' di tempo togliete adguard gli togliete la spunta così e fate un F5 per avere di nuovo tutto quanto attivo insomma bene penso di avervi detto tutto tenete sulle orecchie perché alla fine della fiera siete voi quelli che devono essere gli strumenti principali più importanti per stabilire se e quando il sito è realmente sicuro cioè tante volte è veramente troppo palese perciò va benissimo conoscere dei siti per fare la prova però le orecchie dovete sempre tenerle alte spero di essere stato utile mi auguro proprio di sì perché è veramente tanta tanta roba questo video se sono stato utile iscrivetevi come già precedentemente detto al mio canale per poter usufruire di tutti quanti i benefit e di vedere tutti quanti i nuovi video attivate le notifiche così non perdete niente di niente anche nella community ogni tanto butto là qualche informazione soprattutto di sicurezza veramente molto importante perciò attivate la campanella e basta ci vediamo alla prossima puntata grazie